Ottiene un nuovo importante riconoscimento il panificio Anversa. Il panificio con negozio nel piccolo centro della Valle Sagittario a Sulmona in piazza Garibaldi è stato riconfermato tra gli esercizi raccomandati dal Gambero Rosso nella guida 2022 dello Street Food. Una conferma di assoluto rilievo che arricchisce di fame e prestigio il panificio Anversa già conosciuto oltre ai confini regionali, soprattutto nella stagione estiva, in tanti di passaggio Anversa delle Abruzzi si sono fermati per una sosta appetitosa nel panificio, gustando pane, pizze e dolci di produzione propria.